Ebbene sì, è quel periodo dell'anno, periodo in cui si accendono le luminarie, si fanno i regali e siamo tutti più buoni. E siccome siamo tutti più buoni, io oggi ho deciso di portarvi un contenuto natalizio. È una cosa che normalmente non faccio, non me ne frega niente, però siccome ho fatto dei contenuti natalizi, ho deciso di portarli anche sul canale. Oggi vi faccio vedere delle foto di Natale che ho realizzato e stiamo parlando di microstock sostanzialmente, perché non c'è un cliente che me le ha commissionate, me le sono fatte per me stesso, perché ho piacere a farlo, così testo le mie skill, le faccio meglio dell'anno precedente, ogni anno le faccio meglio, ogni anno miglioro qualcosa. Quindi per esempio quest'anno ho utilizzato il Canon RF 1435, che l'anno scorso non avevo, quindi l'anno scorso avevo usato il 1740, quest'anno ho usato il 1435, quindi sempre si va a migliorare qualcosa. Inoltre gli anni passati avevo utilizzato la Canon EOS 6D, mentre quest'anno ho utilizzato la Canon EOS R, quindi sensore più bello, quindi più gamma dinamica, quindi ho fatto il bracketing con una gamma dinamica maggiore, quindi vengono fuori sempre un pochino meglio. Quindi quest'anno vi faccio vedere sostanzialmente la post-produzione che ho realizzato su queste immagini, ma prima vi parlo un pochino dello shooting. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e come sempre vi parlo di fotografia, video making e design. Se volete lasciare un like a questo video sulla fiducia, mi aiutate un pochino con l'algoritmo. Inoltre io vi invito anche a iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto e attivare la campanella in modo da non perdervi nessun contenuto. Come dico sempre, l'iscrizione a questo canale è completamente biodegradabile, non macchia e fa bene alla pelle. Inoltre i miei video sono realizzati al 100% con materiali riciclati. Bene, andiamo a incominciare con due paroline sullo shooting. Purtroppo non ho granché da farvi vedere, però ve lo racconto. Non ho granché da farvi vedere perché dovete capire che io me l'ho messo alla sveglia, e la sveglia non ha funzionato. Per cui io mi ero messo alla sveglia a mezzanotte, una cosa del genere, non l'ho sentita perché ero addormentato, mi sono schiantato sul divano col gatto qua, una roba meravigliosa. E mi sono svegliato alle due di notte, perché a fare le foto di Natale in Piazza Duomo io ci vado sempre alla notte quando non c'è gente, perché non voglio gente nell'inquadratura. Infatti come vedrete nelle immagini che farò girare in questo video, sono tutte immagini dove non ci sono persone, proprio come le voglio io. Quindi per avere la possibilità di scattare senza persone vado nell'unico momento in cui non c'è nessuno, ovvero molto molto tardi. Sono andato quindi a mettermi la sveglia, però non l'ho sentita. Quindi sono uscito di casa alle 2.30 e sono arrivato in Piazza Duomo alle 3 di notte. E questo mi ha fatto molto gioco, perché così veramente non c'era un cane di nessuno ed era esattamente come la volevo io, quindi fantastico. Ora la chiave per uno shooting come questo ovviamente è l'organizzazione. Ci si deve organizzare, come vedete io già sono partito malissimo perché non ho sentito la sveglia, però in realtà è stato meglio così, quindi nato con la camicia sempre. È importante organizzarsi, perché io avevo controllato il meteo, quindi sapevo che era un giorno dove il cielo più o meno era sgombro. Che ci sia la nuvoletta non mi interessa, però se veniva giù a Catinelle era un problema. Quindi dobbiamo stare all'occhio anche a quelle cose, perché se ci facciamo una barcata come quella alle 3 di notte e ci becchiamo l'acqua, non abbiamo la stessa foto che volevamo, siamo più impacciati, scattare col grand'angolo, con l'ombrello sopra non va mai bene, quindi dobbiamo stare attenti a tutta una serie di cose. Poi vabbè il percorso, bisogna pianificare il percorso, perché a quell'ora non ci sono i mezzi e però non si può entrare in macchina da quelle parti lì, quindi comunque bisogna avvicinarsi un pochino in macchina. Io mi sono avvicinato in macchina e poi ho fatto 15 minuti a piedi e sono arrivato a destinazione senza nessunissimo problema e senza incontrare anima viva. Ovviamente siamo in piena notte, per cui la regola numero 1 quando si scatta di notte è utilizzare il treppiede, perché dobbiamo essere stabili, dobbiamo fare delle pose lunghe. La seconda cosa è che io sto scattando in bracketing, perché so benissimo per comprovata esperienza che quando tu scatti una scena dove hai i toni del cielo scuro e i toni di un lampione che illumina, abbiamo un contrasto troppo elevato all'interno della nostra scena. Scattiamo col grand'angolo, abbracciamo una porzione di scena molto ampia, quindi abbracciamo delle zone con un'illuminazione molto diversa, troppo diversa per il nostro sensore, quindi avremo sempre il cielo troppo scuro o i lampioni troppo chiari, avremo sempre una perdita di dettaglio in quelle aree. Possiamo ovviamente decidere che, vi dico un esempio a caso, possiamo decidere che facciamo l'esposizione sul Duomo. Il Duomo ha una colorazione che è simile a quella dell'incarnato di una persona bianca caucasica, quindi è un'esposizione media che va bene, però è giusta solo in quel punto lì, perché poi sul cielo, sui tombini, sulle edicole, sugli androni sarà sbagliata. Parimenti nei lampioni, nelle lucette di Natale, nei riflessi sulle pozzanghere, di nuovo sarà sbagliata. Quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a scattare in bracketing, quindi facciamo tre scatti, e sto facendo una cosa che non faccio spesso nella vita, ovvero sto usando il bracketing a tre stop, che è tanto, è tanto tre stop, però così riesco ad avere il giusto compromesso e riesco con soli tre scatti, perché altrimenti siamo capaci tutti, dici, vabbè, faccio un bracketing inferiore, però faccio sette scatti. E no, io non voglio tornare a casa con sette scatti, ci metto di più a scattare, ci metto di più a fare la post, quella roba pesa, poi bisogna archiviarla, quella roba, io non voglio una situazione di questo tipo. Tre scatti sono più che sufficienti, bracketing a tre stop. Ovviamente dobbiamo essere stabilissimi sul nostro treppiede, perché se c'è un movimento anche minimo tra una foto e l'altra, e poi l'allineamento non viene e il nostro HDR è rovinato. Devo dire che sono molto contento di questo sensore e dell'ottica, quindi vedete che poi è più nelle mie cose, vi avevo già parlato in un video precedente del 1435, ne ero sostanzialmente scontento, perché fondamentalmente è una lente che per quanto mi riguarda costa una fracca assurda di soldi, ma costa veramente troppo, costa troppo per quello che è. Questo non c'è niente da dire, costa troppo. Una lente così io sarei molto ben disposto a pagarla 1200, 1200, 1800, cioè 1800 una lente così. Per me è veramente troppo. Detto questo, ne ero scontento per il... L'ho comprata, quindi mi posso lamentare poco. Ero scontento per il prezzo, che comunque non mi piace un prezzo così, ed ero scontento per la vignettatura abbastanza prepotente che troviamo in questa lente, ed ero scontento anche per la distorsione a barilotto abbastanza evidente. Però i problemi che avevo relativi alla vignettatura e alla distorsione li ho risolti. Nel senso che, come vi ho già detto in video precedenti, forse, credo di sì, ho creato un preset che vi metto anche a disposizione. Se andate giù nell'info box e andate sul mio sito, nella sezione download, ci sono i preset che ho metto a disposizione gratuitamente. Non voglio soldi per i miei preset. Mi sentirei un truffatore a chiedervi 10 centesimi per un preset e potevate farvi da soli. Ve lo metto a disposizione volentieri, perché tanto ve lo fareste da soli, quindi vi sto solo facendo risparmiare tempo. Non usate però i miei preset così come sono. Prendeteli e toccate qualcosa, fateli vostri, perché quelli vanno bene per me. Magari per voi serve la modifichina che li porti più sul vostro stile, quindi non usateli così come sono. Quindi, ripeto, ho creato un preset che mi risolve quei problemi, e mi risolve in un corpo solo sia la distorsione a barilotto, sia la vignettatura. Quindi, fondamentalmente, adesso sono contento di questa lente. Certo, c'è voluta la mia competenza in più per portarla a livello, e questa è la cosa che mi fa dire 1.800. 1.800 è troppo. Una lente così, 1.200 era il massimo, secondo me. Chi è lo stupido che l'ha comprata? Din! Però detto questo, ecco che quando faccio le mie foto e le voglio fatte in un certo modo, ecco che una lente del genere è caspiterina, mi tira fuori quello che voglio, e me lo tira fuori, e come? Perché quei due millimetri di angolo di campo in più mi hanno permesso di fare tante cose in più rispetto all'anno scorso, ma proprio tante. E quindi sono veramente a questo punto, partito che ero scontento, perché ho detto eh, c'è il difettino, la cosa qui. Adesso, dopo che ci ho preso la mano, ho messo i puntini sull'aio, abbiamo capito io e la lente come comportarci reciprocamente, adesso me ne torno a casa da uno shooting e dico, eh, eh, dai, ci sta, ho fatto bene a prenderla, ho fatto bene a prenderla, mi andava benissimo l'F4, l'F2 non mi serve, tanto scattavo a F8, quindi non si pone proprio il problema, per fare il bracketing sono stato a, lo scatto lungo era 25 secondi, 20 secondi, quindi cavalletto obbligatorio, guanti obbligatori, fidatevi, perché si gela e bisogna stare molto attenti, questa è una cosa, proprio se scattate in Duomo, dovete stare molto attenti perché si scivola, a quell'ora di notte ci sono i camion che passano a lavare la strada, c'è il marmo bagnato, si scivola che è una roba allucinante, in certi tratti vi assicuro che io utilizzavo il treppiede come un deambulatore perché sennò volavo lungo disteso e non era ghiacciato, c'erano 4 gradi, non era ghiacciato in terra, è proprio che il detersivo che mettono giù sul marmo bianco liscio ti fa scivolare molto bene, ma io parlo anche troppo, andiamo a tuffarci nella post-produzione di questo shooting, quindi vi faccio vedere gli scatti, come sono in camera e vi faccio vedere come vengono post-prodotti per arrivare al risultato finale o quasi. Molto bene, eccoci qui all'interno di Photoshop, ora la prima cosa che andiamo a fare è una regolazione base su tutti quanti gli scatti, quindi selezioniamo tutto quanto e andiamo a selezionare questo preset che è il preset RF1435, un preset che ho già mostrato in un video precedente che ho creato apposta per questa particolare ottica, è un preset che va a ridurre la prepotente vignettatura presente quando si scatta a 14 mm e va al tempo stesso a migliorare la nitidezza, quindi impostiamo questo preset per tutte quante le immagini e ci aiuterà a fare meno fatica. Andiamo a vedere, il profilo è Adobe Color, io invece voglio Adobe Standard, quindi questa è una cosa di nuovo che facciamo su tutte le immagini, un'altra cosa che facciamo è che andiamo a mettere Clarity più 4, andiamo a impostare una Vibrance di 20 e una Saturation di 4, questa dovrebbe essere un'impostazione base adatta a tutti quanti gli scatti. Adesso andiamo a vedere che cosa abbiamo qui, abbiamo infatti delle serie di tre scatti perché come sempre abbiamo scattato in bracketing, andiamo quindi a selezionare la prima immagine, andiamo a selezionare l'ultima immagine tenendo premuto Shift e andiamo a dirgli unisci come HDR oppure Alt M, da adesso in avanti mi riferirò a questo comando come Alt M e non starò più ad aprire questa finestra. Nel momento in cui lo apriamo vedete che viene lanciata questa noiosa finestra di caricamento perché purtroppo le immagini pesano, stiamo lavorando con una fotocamera full frame quindi i file sono abbastanza pesanti e sono dei file CR3, il file DNG che uscirà da questa lavorazione peserà ancora di più. ora a linea immagini lo togliamo perché tanto eravamo su tre piede quindi non ci serve The Ghost lo togliamo perché tanto non c'era nessuno quindi non abbiamo bisogno di usare le opzioni di The Ghost che tra l'altro introducono diversi artefatti quindi preferisco sempre non usarle. Andiamo a dirgli Merge e a questo punto salviamo con nome io salvo sempre con il nome del primo dei tre file così all'occorrenza riesco a recuperare a risalire da dove viene quella foto ed ecco qui la nostra immagine HDR a questo punto andiamo a togliere questo più 7 più 6% che c'è sempre con le impostazioni di default io quello non lo voglio vado ad abbassare un pochino gli highlights ma non troppo io non voglio le luci grigie le luci grigie non mi piacciono per niente però voglio la minor perdita di dettaglio possibile al tempo stesso credo di poter tirare un pochettino più indietro il contrasto sui neri perché in fin dei conti era notte quindi non voglio il cielo grigio ma voglio il cielo scuro ok una cosa del genere è pienamente soddisfacente ora ovviamente se si può evitare io non voglio queste linee convergenti quindi quello che vado a fare vado a aprire il pannello geometri vediamo come se la cava con le impostazioni automatiche ogni tanto c'ha zecca ogni tanto mi costringe a rifare tutto da capo questo mi sa che è uno dei casi in cui è meglio se ce la gestiamo a mano per cui andiamo a prendere due linee che secondo noi sono dritte o quantomeno che vogliamo far diventare dritte e andiamo a dire al pannello geometri che quelle linee devono essere quelle da cui si parte per raddrizzare tutta la nostra immagine andiamo a vedere che cosa succede ok mi sembra molto molto meglio adesso cosa che possiamo andare a fare per ridurre questi gap possiamo andare ad agire sull'aspetto quindi andiamo ad allargare un pochino la nostra immagine in maniera tale che vada a riempire a questo punto la tiriamo anche un pochino giù e andiamo anche a ingrandirla un pelo ok andiamo a chiudere i gap ed ecco fatto a questo punto io premo invio vedete che la nostra immagine è sostanzialmente finita si possono fare dei mini ritocchi qua e là si può per esempio magari andare a eliminare i cestini della spazzatura che sono brutti però questa è una cosa che preferisco andare a fare all'interno di photoshop una volta esportati tutti quanti i file per cui l'immagine a questo punto per quanto riguarda questo editing può dirsi terminata andiamo a vedere il prima e il dopo vedete che c'è una bella differenza nel senso che l'abbiamo resa pubblicabile come potete vedere nel mentre che procediamo vado contestualmente a eliminare eventuali fotografie di cui non sono contento quelle venute male quelle insomma a cui non ho intenzione di dedicare del tempo per post produrre quindi passiamo a questa immagine andiamo a fare grosso modo le stesse cose le regolazioni di base vi ricordo che le abbiamo già fatte su tutte quante le immagini quindi adesso dobbiamo semplicemente andare a unirle come HDR e poi dobbiamo andare eventualmente a raddrizzarle io amo raddrizzare le mie foto soprattutto quando ci sono delle geometrie di questo tipo perché i nostri occhi raddrizzano automaticamente questo tipo di linee mentre la macchina fotografica no quindi in virtù del punto di osservazione da cui abbiamo scattato avremo sempre delle linee convergenti quando andiamo a scattare degli edifici dal piano terra perché gli edifici hanno le cime che convergono verso l'alto quindi andiamo a raddrizzarle andiamo a vedere se si può fare qualcos'altro prima di tutto uniamole quindi creiamo un nuovo file dng che come detto peserà tantissimo per cui stiamo attenti quando facciamo questa operazione ora qui vedete che c'è ancora la vignettatura perché non mi ha applicato ecco è arrivato è arrivato il preset che avevo già applicato che viene viene riciclato dalle immagini sorgente quindi qui viene già applicato adesso andiamo a fare le nostre solite regolazioni su geometri qui io vado a prendermi una linea che secondo me è dritta e vado a fare la stessa cosa dall'altra parte eccoci qua ok ed ecco che le mie linee dovrebbero diventare perfettamente dritte poi attenzione io qui spesso faccio questo giochino con il pannello aspetto però la verità è che si potrebbe anche rifilare quadrata e tanti saluti questa immagine ok io faccio una cosa del genere qui si potrebbe o rifilarla quadrata e andrebbe benissimo oppure poi in photoshop si può andare a ricostruire queste aree e aree che risultano mancanti diciamo che io adesso potrei cavarmela una cosa così e questi questi due triangolini si ricavano dopo tranquillamente in photoshop facendo riempi in base al contenuto non ci sono grossi problemi a questo punto io vorrei andare a vedere se riesco a prendere le impostazioni che ho dato alla prima immagine e vado a incollarle sulla seconda perché la scena fondamentalmente è la stessa e l'esposizione non è cambiata quindi gli vado a dare tutte queste modifiche andiamo a vedere che effettivamente l'unica cosa forse che è diversa è il bilanciamento del bianco perché qui vediamo che abbiamo un 3950 e secondo me era più corretto ok 3950 e 22 di tinta secondo me era più corretto la tinta forse è un po' esagerata facciamo 16 però così è una cosa che secondo me è assolutamente realistica cioè non mi non mi dissocio da quello che vedo è molto simile a quello che vedevo con i miei occhi quando stavo lì in piedi procediamo come potete vedere ho fatto diversi scatti anche senza spostarmi tantissimo ho cambiato lievemente le angolazioni per cercare di realizzare qualcosa di carino la verità è che spesso e volentieri ci si rende conto se le nostre foto hanno raggiunto i nostri desideri solamente quando si arriva a casa quando le si vede grandi a computer per quanto il display della fotocamera fosse ad alta risoluzione devo dire che personalmente non riesco a farmi un'idea precisa di quello che sto vedendo è troppo piccolo faccio fatica a vedere se ho messo bene a fuoco quindi devo per forza di cose guardarmela bene a casa e quindi è anche buona norma quando si trova un'angolazione che ci piace farne più di una perché se ne facciamo una sola rischiamo che sia venuta mossa che ci sia qualche difetto che ci sia il peluccolo in precisione adesso io vado subito a copiarmi le impostazioni vado subito a copiarmi tutto quanto quindi qui abbiamo la nostra stessa identica situazione adesso andiamo ad aprire il nostro pannello geometri e andiamo di nuovo a raddrizzare queste linee che sono birbanti ecco qua questo è proprio non è neanche un difetto è una caratteristica della macchina fotografica per il punto di osservazione da cui stiamo riprendendo la scena cioè non è un difetto con qualsiasi macchina avremo questo tipo di problema perché dipende dal nostro punto di osservazione per prendere le linee dritte dovremo stare a questa altezza dovremo stare a mezz'aria in maniera tale che le linee siano effettivamente perpendicolari e che noi siamo esattamente a metà delle linee che vogliamo mantenere dritte quindi ovviamente non è cosa facile ovviamente io non so né levitare né tantomeno volevo recarmi in piazza del duomo con una scala me la cavo in altri modi per cui faccio un lavoro di questo tipo ed eccoci qua e andiamo a vedere il prima e il dopo direi che è decisamente meglio il dopo fra l'altro ho cercato di calcolare di riuscire a tenere dentro i lampioni vediamo di quanto io lo voglio un po' dentro quel lampione sì qui ci sono due due pelucchi che rimangono facciamo così così devo fare meno post dopo tanto va benissimo così e anche questa direi che ce la siamo portata a casa ok questa che abbiamo qui adesso è un'angolazione che in realtà di natalizio non ha niente soltanto che è un'angolazione che avevo visto non mi ricordo dove quindi già che ero lì mi ero ripromesso di provarci anch'io quindi adesso andiamo a vedere com'è venuta andiamo a vedere se ci sono riuscito se rispetta quelle che sono quelle che sono le mie idee vediamo come viene fuori perché la cosa diciamo complicata è calcolare come verrà fuori una volta raddrizzata perché la voglio dritta quindi la difficoltà in una foto come questa per me è quella devo calcolare che deve venire dritta e quindi che qui se voglio mantenere qualcosa all'interno del frame devo dargli un po' di margine perché altrimenti con il rifilo viene tagliato fuori come abbiamo già visto in precedenza noi adesso andiamo nuovamente a copiare le impostazioni da quest'ultima che abbiamo fatto quindi vado a selezionare l'ultima fatta seleziono quest'altra da fare copia impostazioni ed ecco che abbiamo le nostre impostazioni copiate a questo punto avete visto che ho provato a fare raddrizza automaticamente all'inizio ma non ha ottenuto il risultato che volevo e quindi da adesso in poi le faccio tutte a mano perché queste impostazioni per raddrizzare le linee in automatico 6 funzionano però abbiate pazienza se lo facciamo a mano verrà sempre meglio e quindi visto che ci teniamo lo facciamo a mano qui solita cosa andiamo ad agire un pochino sull'aspetto non troppo andiamo anche a occhio per cercare di non deformare troppo la scena ci sono dei casi in cui si presta bene e ci sono dei casi in cui invece è meglio di no ok vedete che qui grosso modo avevo calcolato giusto per riuscire a mantenere la scena entro certi range quindi qui riusciamo ad avere il nostro duomo completamente incluso nella scena perdiamo ovviamente quelli che erano degli elementi che stavano fuori quindi tutto questo pezzo lo perdiamo e anche tutto questo pezzo viene rifilato quindi la nostra immagine finale sarà questa è assolutamente in linea con quello che volevo perché io qui volevo fotografare il duomo quindi sono contento di com'è venuto fuori e va bene così a parte questa roba questi tendoni qui in fondo mi rendo conto che questa foto non ha nulla di natalizio è semplicemente una foto del duomo però ci tenevo a farla e quindi già che ci siamo ve la faccio vedere ok passiamo a questa che per quanto mi riguarda è un super topic stagionale perché credo probabilmente tutti gli anni di aver fatto questa foto mi piace moltissimo quest'angolo perché si vede un pezzo di duomo ma si vede la via e di solito non c'è nessuno qui ci sono delle persone per cui adesso questa mi sa che non la faccio neanche perché questa qui me l'hanno rovinata ce ne sono delle altre più avanti dove il problema invece non si pone allora l'ho fatta anche in verticale proviamo la verticale qui ho fatto anche la verticale per includere la madonnina e le guglie più alte ovviamente e anche perché scattando in verticale spesso si include una porzione di pavimento maggiore e la distorsione risulta inferiore la distorsione del soggetto principale che quindi ha sviluppo orizzontale qui nel mezzo ha meno distorsione scattando in verticale quindi andiamo a vedere che cosa riusciamo a cavare da questo scatto come sempre faccio alt M per unire le tre foto selezionate andiamo a vedere che cosa ci siamo portati a casa vado a dirgli unisci il risultato come vedete non è male già così già con le impostazioni di base adesso voglio anche fare una prova per quanto riguarda il bilanciamento del bianco perché le prime foto gli ho dato questo bilanciamento del bianco questa qui ne ha uno che è decisamente diverso devo anche capire quale sta meglio quindi magari alla fine mi prendo un po' di tempo per guardare tutte le foto e per decidere che bilanciamento del bianco usare perché vedete che questo qui che avevo impostato per le prime foto del Duomo qui risulta molto giallo molto oro sì fa molto Natale è vero però potrebbe essere un pelino troppo e quindi mi riservo di tornare alla fine a vedere di modificare qualcosa qui per esempio modifico qualcosa perché perché mi sembra meglio così ci può stare ovviamente una via di mezzo tra i due magari perché così è molto giallo qui era 3,750 farò una via di mezzo tra i due sicuramente adesso la cosa più importante però è che andiamo a raddrizzare le nostre linee come al solito andiamo a prendere qui non vedo bene bisogna prenderne una che si vede bene ovviamente anche a costo che non sia la più dritta di tutta l'immagine però la dobbiamo vedere bene perché almeno abbiamo un riferimento se la canniamo ovviamente e poi viene storta e non ci possiamo neanche lamentare andiamo a prendere quest'altra linea e vediamo un po' e vediamo un po' come viene fuori raddrizzata vedete sulla verticale abbiamo meno problemi a raddrizzarla abbiamo anche meno scarto cioè dobbiamo raddrizzarla di meno e quindi non abbiamo triangolini privi di informazioni che ci vengono fuori questa qui è già pronta così andiamo avanti e vediamo che io giustamente l'ho rifatta subito dopo sperando che nessuno mi camminasse davanti proprio in quel momento ovviamente ma questa volta sembra di no qui ci sono delle scie non capisco se sono sono scie di bagnato probabilmente potrebbe essere un trail di qualcosa che passava ma secondo me sono scie di bagnato verifichiamo subito si ci sono anche qua allora sono scie di bagnato andiamo a prendere le nostre tre immagini di nuovo andiamo a unirle vedete che qui dovendo raddrizzare queste linee qui qui lo scarto è maggiore qui secondo me avremo dei bei triangoloni vuoti in basso come capita tutte le volte invece se scattiamo in verticale e oltretutto abbiamo tagliato la madonina invece se scattiamo in verticale questo problema non ce l'abbiamo è comunque un'immagine carina questa qua quindi la postproduciamo lo stesso a differenza di quella di prima che era a mio parere rimediabilmente rovinata dalle persone che mi sono passate davanti d'altronde ci vuole pazienza quando si fanno questa qui era un'esposizione di la più lunga era un'esposizione di 25 secondi e per quanto non ci fosse nessuno 25 secondi oltretutto più 4 più 1 perché era in bracketing quindi c'erano diversi scatti alla fine viene fuori 30 secondi tutti quindi 30 secondi a Milano senza che nessuno ti passi davanti in piazza Duomo è tanto tempo quindi è molto facile che qualcuno finisca per passarti davanti e bisogna avere pazienza perché in fin dei conti siamo ospiti non è casa nostra andiamo a raddrizzare questa e andiamo a raddrizzare quest'altra mi fido che il Duomo sia dritto ovviamente bisogna scegliere anche che cosa raddrizzare perché raddrizzare tutto non si può per cui bisogna scegliere di raddrizzare qualcosa sapendo che le geometrie non sono tutte dritte e non sono dritte tra di loro soprattutto magari questo palazzo pende lievemente rispetto al Duomo quindi dobbiamo anche fare delle scelte e qui in questo caso la prima cosa su cui mi casca l'occhio è che è troppo luminosa questa foto non c'era tutta questa luce quindi vado a ridurla un pochino vado a ridurla in questa maniera e vado ad alzare un po' le ombre invece che va bene avere più profondità però deve anche essere il più realistica possibile torno a ridargli un po' di highlights perché non voglio le luci grigie cioè va bene avere un'immagine a basso contrasto però le luci nella vita reale non sono grigie sono bianche quindi il bianco ci vuole esiste è un colore che esiste il bianco proprio come il nero ok vediamo questo prima e dopo e vedete che anche qui è decisamente meglio questo questo giallo che c'è qui dato dal nostro bilanciamento del bianco non è male perché non è sbagliato è un po' tanto vedremo alla fine se mi ispira ancora andiamo avanti e vediamo che l'ho rifatta questa l'ho rifatta da un altro punto sono andato più indietro probabilmente perché si cambia anche idea ci si fanno delle idee durante io qui probabilmente l'ho fatta da più indietro perché speravo di mantenere un po' di questa geometria all'interno dello scatto dopo averla raddrizzata questo ovviamente andrà interamente perduto perché dobbiamo vedere la base qui la base manca quindi questo andrà perduto perché verrà raddrizzato questo si si vedrà appena il lampione si vedrà e insomma dobbiamo calcolare queste cose quando andiamo a fare gli scatti di questo tipo con l'ottica di raddrizzarli perché dobbiamo pensare che quello che è alla base si vedrà ma quello che è fuori dalla base andrà perso andiamo a unire le nostre immagini dunque qui si verifica un fenomeno curioso perché questa vettura che era una vettura della vigilanza si è spostata durante la mia serie di scatti per cui vediamo che qui sembra un fantasmino qui se io fossi bravo potrei andare a recuperare una delle tre foto in cui questa macchina non c'è proprio vediamo se per puro caso no qua si vedono le scie dei fari un po' di fantasmino c'è anche qui perché altrimenti avrei potuto scurire questa versione e incollare solo questo pezzo in maniera tale da avete capito da mascherare quella macchina posso farlo lo stesso la maschererò in qualche altro modo in Photoshop però per adesso ce la teniamo così che qui siamo su Camera Raw e stiamo facendo solo lo sviluppo digitale tenete conto però che lo sviluppo digitale è per quanto mi riguarda è la parte più importante perché ci permette di arrivare in Photoshop con delle immagini che già non hanno bisogno di chissà cosa se noi usciamo da questo modulo di sviluppo con delle immagini che sono già non 100% pronte però 99% pronte sono tutte fatte manca il pelucco manca da sistemare una cosina a quel punto è un bel lavorare poi quando arriviamo in Photoshop perché non dobbiamo fare chissà cosa allora vediamo che qui qui diciamo che il mio obiettivo grosso modo è raggiunto nel senso che sono riuscito a tenere tutto quello che volevo in frame adesso qui me la gioco un po' tra questi parametri per cercare di sì sì però il mio obiettivo è sostanzialmente raggiunto il mio obiettivo era avere questi fasci di luce sicuramente dentro nell'inquadratura a questo punto io me la prendo anche larga perché voglio eliminare questo coso questo catafalco che c'è qua quindi tengo solo la scala e questo pezzettino lo recuperiamo dopo in photoshop e questo è facilissimo col timbro clone da qui si recupera subito e abbiamo il duomo che è lievemente decentrato però abbiamo tutta questa fila di fari che lo illuminano che è molto suggestiva e la volevo includere nell'immagine passiamo alla parte volendo un pochino suggestiva che è quella che personalmente mi attira di più perché io preferisco scattare l'albero di Natale di Swarovski in questo contesto ampiamente illuminato piuttosto che scattare l'albero di Natale in piazza perché quello o lo si scatta esattamente durante la golden hour o la blue hour oppure la fotografia non è mai soddisfacente ma durante la golden hour o la blue hour c'è pieno di gente e io voglio le foto senza nessuno per questo motivo sono andato a scattare queste foto credo intorno alle 2.30 di notte una cosa del genere probabilmente sono partito alle 2 ho finito verso le 3.30 una cosa del genere quindi un orario in cui veramente c'ero solamente io ovviamente avrei potuto andare a un altro orario ma avrei avuto pieno di persone e questa foto di certo non la facevo anche perché queste sono foto scattate su tre piede per cui scattando su tre piede non è che posso mettermi qui con 300.000 persone e mettermi a scattare agevolmente col tre piede avrei sempre delle persone davanti non posso nemmeno scattare da sopra le teste perché il tre piede insomma deve posare a terra e non ha un'altezza infinita quindi qui o voli o ti devi adeguare comunque ci sarebbe gente dietro io invece volevo la piazza vuota esattamente quello che ho ottenuto se guardate e per avere la piazza vuota bisogna andare a un orario a cui la maggior parte delle persone ha voglia di fare altro per esempio dormire ora in uno scatto come questo vi dico subito che le linee non si raddrizzano perché qui è uno scatto dove ovviamente queste linee convergenti fanno parte del gioco quindi andiamo semmai ecco vedete esiste un punto ben preciso in cui la luce smette di essere bianca e diventa grigia io ok voglio conservare i dettagli però non voglio le luci grigie vado a tirare un pochettino i neri per avere un pelo di contrasto migliorato e direi che così già ci siamo per quanto riguarda il bilanciamento del bianco vediamo un po' se no ma andava bene 4005 andava bene qui anche qui poi adesso andiamo a vedere a shooting finito quando abbiamo post prodotto tutte le immagini andiamo a vedere se c'è un bilanciamento del bianco di qualcuna delle immagini che ci piace di più io per adesso tengo ecco per esempio questa qui mi sembra troppo fredda rispetto alla prima quindi probabilmente dovendo scegliere andrò a copiare il bilanciamento del bianco di questa prima sopra questa seconda adesso andiamo a unire questa qui questa mi piace è venuta bene anche questa ovviamente anche questa non la raddrizzo non la raddrizzo anche perché essendo verticale in questo modo cioè queste linee verticali non vanno nello stesso senso di queste altre linee verticali che pur sono incluse nel frame quindi qui non raddrizzo niente perché se raddrizzo una cosa ne è storto un'altra quindi la teniamo così magari raddrizzerò questa linea questa linea orizzontale andrò a raddrizzarla e questa linea orizzontale andrò a raddrizzarla però solo quelle perché le verticali in questo caso sono sacrificate per fare questo tipo di composizione di cui fra l'altro sono abbastanza contento perché è molto caruccia e questo è il primo anno che sto scattando con il 1435 effettivamente perché prima utilizzavo il guardate qui che mi sono dimenticato ah no 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 non me l'ho dimenticato copio i miei parametri che quindi sono giusti perché quindi non me l'ho dimenticato di togliere il contrasto ok qui a me sembra già abbastanza dritta perché comunque ne ho perso di tempo per cercare di farla già dritta però siccome noi siamo maniaci adesso andiamo a raddrizzare ulteriormente questa riga in questo modo e qui potrei scegliere magari di raddrizzare quest'altra in basso vediamo come viene sono curioso non lo so come viene perché devo vedere qui come vedete le geometrie non sono perfettamente dritte raddrizzi una cosa e ne storti un'altra in questo caso si vi dirò che mi piace sì sì mi piace quest'angolino che finisce esattamente qui in basso per tutte e due quindi è giustissima così va bene mi piace molto adesso andiamo a tirare un pelo indietro queste luci perché qui questi faretti li voglio preservare il più possibile ok ok direi che ci siamo mi piace abbastanza qua si potrebbe secondo me aggiungere un pelino di vignettatura ecco perché in questo modo andiamo a voglio le opzioni della vignettatura però allora in questo modo andiamo a dare un pochino di enfasi sul nostro albero di Natale nel centro quindi vedete ho aggiunto questa vignettatura che è un po' tanta buona regola è che quando vedi l'effetto vuol dire che è già troppo quindi lo tiriamo indietro ok così così mi soddisfa assolutamente è una ottima regola quella che quando l'effetto è troppo visibile lo si mette a metà del parametro iniziale quindi lo si tira un pochettino indietro perché se no è troppo il nostro occhio quando arriva a percepire una modifica significa che la modifica è già eccessiva quindi rimaniamo sempre un pochettino più indietro è molto meglio avere una fotografia pacata piuttosto che una fotografia sparata perché una fotografia con tutto sparato non sta raccontando al nostro osservatore che siamo dei bravi fotografi ma sta raccontando al nostro osservatore che siamo dei pessimi editor quindi è molto meglio stare un pelino indietro qui abbiamo recuperato un po' di dettagli devo dire sensore della Canon EOS R molto molto bello e mi sta dando tante soddisfazioni guardate si riesce non so se riuscite a vedere si vedono le stelline su tutti i faretti e anche sui puntini dell'albero di Natale di Swarovski quindi questo è merito sia del sensore sia della lente ovviamente però grande soddisfazione questa combinazione perché mi dà veramente una qualità d'immagine notevolissima ok qui abbiamo uno scatto un altro in cui il raddrizzamento delle linee verticali non si farà sono molto contento quando mi capitano scatti di questo tipo perché significa che dovrò fare meno fatica qui non si raddrizzeranno ovviamente le linee verticali perché proprio come prima queste linee verticali sono diverse da queste altre linee verticali che partono da qua quindi raddrizzando una cosa ne storteremmo un'altra per cui non si fa proprio e si accetta questa distorsione perché qui è funzionale alla composizione qui io voglio prendere sia il piano del terreno sia il soffitto la cupola e quindi in questo caso è normale che ci sia un po' di distorsione fra l'altro devo dire anche gradevole perché qui tutte le linee ci portano dentro nell'immagine fino al punto focale che è tra la punta dell'albero e la punta della cappella quindi assolutamente funzionale potremmo raddrizzare questa linea che io ho provato a prendere dritta però vedete quando sei fuori stai scattando tu provi a mettere le linee dritte ma ci riesci fino a un certo punto un po' perché non vedi cioè io non riesco a ingrandire con questo livello di precisione mentre sto componendo e poi mantenere ingrandito a quel livello mentre mi sposto per cui non lo faccio vado a occhio cerco di stare più dritto possibile perché so che più dritto sto e meno correzione dovrò fare dopo e quindi meno perdita di dettagli di pixel ai lati mi ritroverò nell'immagine finale ok vedete così è dritta infatti così mi va benissimo e siamo a posto così le nostre impostazioni di base le ho già copiate perché non mi ha copiato questo perché avevo sbagliato qua perché a me mi aveva tenuto quel contrasto che io in realtà non volevo e non è che mi ha copiato anche non mi ha copiato la lignettatura aspetta un momento eh io qui voglio recuperare le cose che avevo fatto qua vuoi dire che non mi ha copiato gli effetti ecco qua c'erano i miei effetti allora io vado a prendere l'ultima foto su cui c'erano gli effetti e a cascata vado a copiarli su tutte quante quindi copio tutto anzi anzi check none vado a mettere solo gli effetti perché sono quelli che mi interessano gli effetti profile adobe standard va bene anche qui c'erano delle cose che avevo fatto che volevo mantenere vabbè detail possiamo tenerli tutto il resto non ci interessa quindi vado a copiare questa roba e adesso adesso giusto adesso mi ritrovo con la mia lignettatura che era stupidamente andata persa perché non l'avevo copiata dall'immagine precedente evidentemente adesso c'è bisogna anche stare attenti quando si sbaglia perché se ti accorgi che hai sbagliato correggi subito questa qui classicona anche questa che mi piace un sacco qui ci sono due no ci sono due persone che mi sono passate davanti e non l'ho rifatta molto male vabbè dovrò eliminare queste due persone ma forse non l'ho rifatta perché non ero contento andiamo a farla in ogni caso qui dovrò eliminare queste due persone ed eliminare questo guardiano solitario che stava qui per il resto è una bella foto peccato che non l'ho riscattata chissà come mai io mi sono distratto non mi sono accorto di queste due persone che passavano questa è proprio una brutta brutta distrazione da parte mia che mi costa eh mi costa l'immagine pulita o quantomeno vabbè sì unendole è diventata quasi pulita questo non si poteva aspettare che se ne andasse perché stazionava magari l'ho rifatta dopo eh se sono stato bravo l'ho rifatta dopo spero davvero perché è una bella foto questa e si può recuperare però a costo di stare lì con i pennelli e io cerco di evitare perché non mi piace stare lì con i pennelli preferisco fare altro nella vita quindi già che sono uscito alle tre di notte per fare queste immagini se posso evitarmi di dover passare anche il giorno dopo a editarle sono solo più contento eh ok questa direi che va già bene così come è uscita no qui guardate qui è venuta perfettamente dritta io questa non la tocco proprio va bene così quelle due persone sono sparite da sole in virtù del fatto che ho fatto il merge to hdr quindi probabilmente per quello non l'ho rifatta perché avevo calcolato che sparivano questo non lo potevo togliere quindi nell'economia della foto forse ci sta anche perché comunque rappresenta la scena com'era veramente cioè questo qui è il guardiano di Swarovski che sta lì a guardare che non ci siano i vandali che danno fuoco all'albero per farsi il selfie con il tizzone alle spalle quindi è giusto anche che ci sia una sua dignità all'interno di questa immagine e forse lo lascerò più per pigrizia eh ve lo confesso più per pigrizia perché non ho voglia di toglierlo però avete visto che bella motivazione che ho trovato per non toglierlo qui invece non c'era nessuno questo è un bell'angolo dove di nuovo è un po' storto quest'angolo è un pochettino trasversale dove si vede tutto quanto si vede si vedono gli accessi si vede un po' tutto è un po' stortina in generale probabilmente avevo avevo percezione che fosse un po' storta anche mentre la stavo facendo però mi son detto ormai siamo qua facciamo questa foto che tanto poi non sai mai alla gente cosa piace quindi facciamola portiamola a casa e poi decidiamo a casa e comunque qui questi faretti sono molto carini quindi ci potrebbe anche stare andiamo a vedere che cosa viene fuori verrà fuori sicuramente una bella cosa adesso vado a riprendere come sempre le mie impostazioni dall'ultima immagine potrei farlo anche alla fine questo lavoro ovviamente questa è una cosa che qualcuno mi ha chiesto ma non è meglio farlo tutto alla fine si alla fine si fanno dei ripassi però in questo momento io vado a dargliele già le impostazioni perché così se c'è qualcosa che non va bene con quelle impostazioni me ne accorgo ora e ho modo di rivedere subito in maniera tale da dover lavorare meno dopo questa qui l'ho rifatta qui c'è una persona qui vedo che l'ho rifatta subito e qui la persona non c'è vedete normalmente quando rifai una cosa è perché la prima volta c'era qualcosa che non andava bene e la seconda volta questo qualcosa che non andava bene l'hai sistemato molte volte io cancello quando c'è qualcosa che non va in questo caso questa serie l'ho tenuta perché comunque quello era un problema così marginale che se non avessi cioè se questa seconda foto non fosse venuta bene metti se avessi colpito il cavalletto con il gomito per distrazione fosse venuta mossa e non me ne fossi accorto come un deficiente avrei avuto comunque la prima che era pressoché buona c'era soltanto la testa di qualcuno che faceva cappolino da lì ma potevo sistemarla adesso nuovamente andiamo a riprendere le nostre impostazioni dall'immagine precedente e gliele incolliamo sopra non ve l'ho detto per incollare le impostazioni si fa Alt S quindi si vanno a copiare le impostazioni della prima foto selezionata su tutte le altre foto selezionate è una cosa molto molto utile perché altrimenti bisognerebbe rifare tutto ogni volta e si diventerebbe scemi e per quanto io ami questo lavoro esistono anche altre cose nella vita oltre a stare a editare le foto fatte alle 3 di notte quindi adesso adesso io vorrei andare a raddrizzare qualcosa perché così ho voglia di raddrizzare cose è una roba mia mi piacciono le cose dritte e quindi andiamo a raddrizzare questo e andiamo a raddrizzarlo con l'unica altra linea dritta che vedo cioè questa qua proviamo facciamo un tentativo vediamo che cosa succede ma è meglio o peggio secondo voi perché no ok questa è meglio perché è dritta mi sembra che si storti un po' tutto il resto sì c'è qualcosa che c'è qualcosa che non mi torna allora cominciamo da capo c'è qualcosa che non mi torna e secondo me dipende dal fatto che quella linea in basso me l'ha presa male quindi adesso io potrei o cercarne una io provo con questa guarda io provo a raddrizzare con questa che magari viene meglio vediamo un po' perché io è quella che voglio raddrizzare in fin dei conti questa qui è già dritta eh sì così mi piace di più sì sì così è migliorativo mentre prima era peggiorativo va bene va benissimo così mi piace di più e a posto questa è una bella immagine vediamo la successiva vediamo un po' che cosa abbiamo fatto l'ho rifatto ancora no è un altro angolo è un altro angolo nuovamente storto questo l'ho fatto per i faretti palese eh sono un grandissimo fan delle delle stelline quindi quando quando vengono fuori gli spotlight a forma di stellina mi piace tantissimo e quindi anche se questa non è una bella foto perché non è un bell'angolo questo non lo è però c'erano i faretti che mi puntavano direttamente in camera fra l'altro questa è una lente che ha pochissimo lens flare pochissimo light leak vedete che abbiamo tipo tre faretti ma forti puntati direttamente nella lente e non c'è nessun segno nessun flare niente quindi è è una lente con una protezione da flare molto molto buona qui non è questione di paraluce perché ce li abbiamo direttamente in camera eppure vedete che il contrasto è ottimo veramente ottima ottica avevo dei dubbi all'inizio per via di quella vignettatura orrenda che c'è a 14 mm ma tanto come abbiamo visto se io utilizzo il mio il mio preset che vi lascio in condivisione sul sito ovviamente gratuitamente se uso il mio preset questa qui non la raddrizziamo perché tanto è storta adesso è completamente storta non ha nessun riferimento da raddrizzare quindi è già a posto così se usiamo il preset per raddrizzare la distorsione a barilotto che è un altro grave difetto di questa lente se raddrizziamo la vignettatura sparisce da sola perché qualche pixel viene a mancare viene tirato fuori dall'immagine quindi perdiamo automaticamente quel difetto cosa di cui sono molto contento eccoci qui a un'altra immagine molto forte di questo shooting che è l'intero svincolo completamente vuoto qui c'è un piccione maledetto lui ma vediamo se riusciamo a farlo sparire semplicemente facendo il merge perché non si sa mai alcune cose sono sparite semplicemente facendo il merge in foto precedenti quindi sono molto fiducioso che tu maledetto volatile natalizio scomparirai da lì e altrimenti ti cancellerò dopo con photoshop per il momento che cos'è questa x bruttissima qui sul pavimento questa qui è una x di qualche addetto ai lavori che ha segnato una posizione anche questa credo che la farò sparire perché a me non dice niente non mi significa nulla un po' mi disturba vediamo un po' che cosa otteniamo quando andiamo a miscelare qui come potete vedere avevo tre serie di immagini perché questa immagine l'ho rifatta vedete la distorsione originale come piega questa linea come è storta e vedete adesso quando entra il mio preset come viene raddrizzata quindi di questo parlavo quando vi dicevo che il preset ha raddrizzato le immagini e tolto anche la vignettatura al tempo stesso adesso noi andiamo a copiare le impostazioni dall'ultima foto il bello di scattare in questi contesti è che comunque si scatta in manuale e quindi le impostazioni sono le stesse per tutte quante le foto c'è quel maledetto contrasto che rimane sempre lì e ogni tanto a sua discrezione non mi copia la vignettatura questo è seccante vignettatura eccola qua e contrasto a zero allora io adesso prendo questa immagine che era l'ultima sana diciamo e vado a copiare le sue impostazioni su tutte queste che sono venute dopo vado a copiare le impostazioni però non tutte allora check none vado a copiare il contrasto e vado a copiare gli effetti bam devo stare attento perché quando faccio copia impostazioni spesso non mi prende la vignettatura in automatico quindi devo stare attento ecco adesso c'è adesso c'è maledetta andiamo a raddrizzarla un pochino vedete che questa qui l'ho fatta tre volte perché ho cercato di farla dritta in camera ovviamente perché se io la faccio dritta in camera quello che succede è che devo rifilarla di meno facendo questo giochino per raddrizzare le linee quindi mi rimane un'immagine più grande se invece la vado a rifilare molto perché il mio errore era grande vado a perdere più pixel e quindi ho scattato a 30 megapixel però la mia immagine finale magari è a 24 è un peccato perché nel mio caso specifico io le voglio grosse le foto le voglio grosse per tutta una serie di motivi ma principalmente perché se devo farne degli usi print mi serve che siano grandi perché mi serve poter consegnare l'immagine con delle dimensioni consone per essere magari stampate su una prima di copertina o su una doppia pagina interna quindi devono essere grandi io voglio idealmente almeno 24 megapixel 30 mi piace ancora di più qui stiamo lavorando a 30 infatti qua io sono perfettamente a mio agio mi piace tantissimo avere 30 megapixel ed eccoli qua e qui devo dire che questa foto secondo me è troppo chiara quindi adesso andiamo a scurirla un pochino andiamo a scurirla un pochino perché la scena non era così luminosa andiamo a fare così ok così mi piace abbastanza andiamo a vedere vedete che si è raddrizzata ulteriormente così è perfettamente dritta e così così ci piace così è abbastanza perfetta per i nostri standard proseguiamo con la prossima vediamo che anche questa e qui qui ci sarà da raddrizzare qualcosina anche qui cioè questa qui l'ho fatta palesemente per avere questo starburst enorme che sì pacchiano però tanto è natale secondo me ci sta e poi c'era questa stellina che è palesemente super mario mario kart la stellina di mario kart questa qua e quindi ho voluto riprendere anche questa inquadratura anche perché il guardiano che prima stava qui chiaramente indispettito dalla mia presenza se ne era andato e quindi ho detto vabbè allora facciamo due foto anche da qui visto che tanto ormai l'ho fatto alzare si era andato a nascondere da qualche altra parte perché giustamente non aveva piacere di essere ripreso io non posso che apprezzare perché anch'io non lo volevo in foto quindi va benissimo così ci siamo capiti senza dirci niente andiamo a copiare le impostazioni dall'ultima effetti io l'ho spuntato quindi tu adesso la vignettatura me la dovresti copiare e infatti adesso c'è chissà cos'è che sbagliavo sempre prima molto bene ci ritroviamo qui adesso con l'ultimo set di immagini perché qui me ne stavo sostanzialmente andando e mi è cascato l'occhio su questa scena che ho trovato molto suggestiva per cui questa sarà sarà l'ultimo spot su cui mi sono fermato per cui vi faccio vedere non ve le faccio neanche vedere tutte come avrete visto vi faccio vedere a campione un po' di angoli un po' di modifiche che sono state fatte poi qui non si tratta di voi non dovete pensare di guardare questo video per copiare quello che ho fatto io questa è un'idea voi potete venire nello stesso posto e fare le stesse cose se volete esercitarvi e vedere se riuscite a fare la stessa cosa ma è molto più divertente se provate a fare magari usare la stessa tecnica ma da un'altra parte trovate un angolo vostro perché la tecnica è una cosa che potete acquisire mentre quella diciamo quella che è la vista quella che è l'occhio dovete sviluppare il vostro quindi è importante che non stiate a impegnarvi a copiare quello che è già stato fatto ma che diate una vostra interpretazione ora qui questa è un'immagine che è bella così però io voglio provare a raddrizzarla voglio giusto provare per vedere come viene perché può darsi che dia un ottimo risultato così come può darsi che sia molto meglio non raddrizzata voglio appunto sincerarmi di questa cosa quindi facciamo questa modifica e vediamo che cosa otteniamo vediamo che cosa viene fuori qui avremo un'ampia perdita di detta eh questo è un peccato ricostruire questa parte non sarà per niente facile allora proviamo a fare un paio di modifiche ecco adesso adesso queste aree sono recuperabili in photoshop queste si ritirano fuori in qualche maniera timbro clone e si aggiustano peccato perché questa area qui avrei voluto valorizzarla di più col senno di poi perché era bello questo colonnato beh questa qui facciamo la doppia versione abbiamo sia la dritta che la storta e così abbiamo la doppia versione vediamo un po' che cosa ho fatto dopo che qui mi sono fermato poco non ho fatto chissà che ecco anche questa anche questa questa qui sarà bella sì da raddrizzata ma è bella anche da storta perché da storta qua si vedono dei dettagli in più queste non so se è il caso di raddrizzarle e qui fra l'altro l'ho rifatta ferma tutto ferma tutto qui l'ho rifatta perché c'era quest'auto che non volevo c'era quell'auto lì che mi è passata davanti e io non la volevo invece volevo questa perché con questa qui non c'è nessuna auto in vista c'erano un sacco di jeep camionette robe che mi passavano davanti quindi nonostante fossero le tre di notte c'era comunque gente che ti passava davanti dappertutto non è per niente facile fare una foto libera a Milano è proprio questo che a me piace di un contesto come questo qui posso arrecarmi quando voglio e avere questo avere la piazza libera vuota tutta per me ciò nonostante ho fatto fatica perché comunque qualcuno che ti passa davanti c'è lo stesso allora qui andiamo a copiare tutti i nostri bei parametri ecco fatto eh questa questa mi piace tanto così io la voglio provare a raddrizzare perché è più corretta una foto raddrizzata però la verità è che questa starebbe bene così perché questa per dare un'idea della scena completa per vedere tutti i palazzi che c'erano intorno sarebbe più giusta così faremo la doppia versione farò una doppia versione la userò poi per scopi diversi perché qui è un peccato che insomma vado a perdere tutto quello che c'è intorno sì qui questo adesso si recupera è comunque una bella immagine ma sapete che mi piaceva di più mi piace di più così perché qui qui si vede più contesto qua è vero che è più dritta però mi piaceva di più prima sicuramente farò la doppia versione benissimo come sempre ho lasciato per ultimo il biscottino più dolce perché adesso qui abbiamo una piccola impresa da compiere nel senso che qui ho realizzato alcune immagini dove ho fatto anche una panoramica verticale come potete vedere proprio per il discorso di prima e questa scena mi piaceva abbracciarla un po' tutta adesso vediamo che cosa succede nel momento in cui noi andiamo a dirgli merge to HDR panorama quindi gli stiamo dicendo sì di fare l'HDR di tutte queste immagini ma anche di rendersi conto da solo di come sono state scattate queste immagini e quindi di concatenare le immagini in modo da creare un panorama HDR questo sarà un file dng che probabilmente peserà intorno ai 200 mega sarà una roba veramente in vera e con da quanto ha peso infatti vedete quanto ci mette a processarla spero che non mi esploda cioè ce la dovrebbe fare ho già fatto cose di questo tipo però ero sulla 5d quindi avevo 20 megapixel no 30 come adesso vedete che fatica sta facendo vi faccio vedere la fatica che fa e nel frattempo ci parlo sopra perché così vi rendete conto di quanto ci vuole effettivamente non voglio né farvi credere di avere un computer della NASA né tantomeno farvi credere che questo sia un processo completamente come si dice non time consuming perché questo è un lavoro che porta via del tempo è un lavoro a cui bisogna star dietro bisogna stare qui a rompersi le scatole a fare tutta questa trafila e non è neanche detto che otteniamo il risultato che vogliamo perché quando si fa una panoramica di questo tipo c'è un bel po' di distorsione molte volte quindi è ampiamente probabile che ci ritroveremo con un'immagine finale che avrà un duomo così distorto che sarà inutilizzabile è possibile che vada a finire così io ci ho voluto provare lo stesso e devo dire che anche contro il mio interesse con la massima onestà ve lo faccio vedere senza averci provato prima quindi vi faccio vedere come viene fuori ma questa è la prima volta che io stesso vedo questa immagine quindi non so che cosa ci ritroveremo una volta che questa maledetta barra avrà finito di caricare dai dai ragazza ce la puoi fare ok come potete vedere la situazione non sembra promettere benissimo però noi sappiamo benissimo che abbiamo questo fader che ci dovrebbe permettere di riempire il nostro fotogramma e quindi ci ritroviamo con un'immagine di questo tipo vedete quello che temevo il duomo è così storto che per quanto mi riguarda è abbastanza inutilizzabile vediamo sferica se ci dà un risultato migliore non è assolutamente detto qui c'è l'updating che anche qui ci metterà un po' non è assolutamente detto che ci dia un risultato migliore ecco francamente se il risultato è questo un duomo con le guglie così storte per quanto mi riguarda è inutilizzabile anche qui boundary warp ce l'abbiamo però no allora vedete a parte che il dettaglio che volevo preservare me l'ha tagliato comunque no non mi piace non mi piace e quindi non la salviamo perché non mi piace e quindi ci teniamo ci teniamo le singole perché invece questa mi può assolutamente piacere così come anche questa mi può assolutamente piacere per cui andiamo a prenderci una bella singola andiamo a fare merge to HDR regolare su questa singola qui andiamo a fare tutte le nostre solite cose e questa qui è una foto che ci sta è una foto scattata verso l'alto per cui qui ci sarà massima tolleranza spero da parte di tutti per quanto riguarda le linee che ovviamente non sono state raddrizzate però è una foto che può funzionare lo stesso proprio perché è scattata dal basso e proprio perché ti permette di abbracciare una scena che è quella di questo spiazzo che altrimenti come visto non è facile da riprendere per intero nemmeno utilizzando delle tecniche di stitching nemmeno utilizzando delle tecniche che permettono di andare oltre quelli che sono i parametri del nostro sensore e quindi a un certo punto ci accontentiamo di quello che abbiamo anche perché comunque non mi sembra malaccio qui il fatto che si vedano tutti i fari è molto molto bello questa serie di scatti secondo me rendono di più con le linee storte piuttosto che con le linee raddrizzate perché raddrizzate è vero che sono più stilisticamente corrette ma si va a perdere l'essenza della scena per cui direi che per questo shooting è tutto molto bene quindi avete visto che siamo sopravvissuti anche al video di Natale mi rendo conto che è un video lungo ovviamente nessun medico ha prescritto di guardarlo tutto quindi io ho messo qualche capitolo potete saltare a quello che vi interessa potete saltarvi tutti i miei discorsi all'inizio e guardare soltanto qualcosina di post potete guardarvelo tutto metterlo in sottofondo metterlo in loop la notte mentre dormite perché la mia voce vi fa dormire benissimo fate quello che volete io non sto certo lì a controllarvi sono però contento di essere riuscito a portare anche un contenuto natalizio sul canale fatemi sapere se ci avete trovato qualcosa di utile fatemi sapere se fate fotografia notturna fatemi sapere se qualcosa vi è servito perché non lo sapevate fatemi sapere se sto facendo qualcosa che secondo voi è una solenne boiata datemi pure i vostri consigli della nonna e detto questo io vi auguro buone feste e ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale Grazie per la visione!